Big match di giornata in programma San Termete Stadium dove si affrontano la prima della classe Nova Felti e i lanciatissimi verdi da San Termete. San Termete che risulta essere vera bestia nera del Nova Felti non a caso da quando gli uomini di Fabri sono saliti in prima categoria contro i paperini giallobru hanno ottenuto tre pareggi e tre sconfitte, due delle quali in questa stagione. La squadra di Fabri nonostante le assenze pesanti, Stefanelli e Muratori su tutti si affida all'esperienza di Baldinini, alla freschezza di Radice e alla serpentina di Fabrizio Cupi. Dall'altra parte la formazione di Pazzini e Martino ottiene l'ottavo risultato utile consecutivo rimanendo l'unica formazione a quota zero in fatto di pareggi, un girone di ritorno da urlo. Arbita la gara il signor Milandri della sezione di Cesena, neppure il tempo di sedersi in tribuna e già dopo soli 49 secondi di gioco instantaneamente passa. Zavattini porta a spasso palla ad avversario fin dentro l'area di rigore, bucando la porta non lasciando scampo in questo caso all'estremo Semplini per 1-0 di casa, con tanto di festa con il pubblico delle grandi occasioni. A sesto continua il periodo nero per il Nuova Feltia, Radice e Cosetto ad uscire anzitempo causa infortunio al suo posto entra Morciano ma non passa neppure un giro di lancette quando Genghini dalla distanza coglie il tiro della domenica indirizzando nel set il pallone alla destra di Emanuele Semplini, 2-0 dopo soli 7 minuti di gioco. Da rimesso laterale Bucai chiama all'intervento Semplini con questo tiro dalla distanza, altro pallone perso malamente da Nuova Feltia al centrocampo, questa volta Ciccarelli a sfiorare la marcatura. L'unico tentativo di Nuova Feltia arriva con questo tiro di Cupi dalla distanza decisamente da dimenticare. Più decisa la manovra del numero 7 che porta Traversone verso il centro dell'area di rigore con Baldinini che in chiusione di tempo manca l'appuntamento per riaprire i giochi. Dall'altra parte invece Contadini a chiamare all'attenzione Semplini. Squadra riposo sul 2-0 ma sorprende la padronanza degli uomini di Pazzini. Squadra decisamente in forma e in salute e si vede dalla quantità di occasioni create e dalla bella manovra imposta dal proprio trainer. Nella ripresa Baldinini a secondo cadattere in area di rigore riuscendo comunque a calciare ma Vandi c'è. Solito copione e nessima palla persa a centrocampo da Nuova Feltia Ciccarelli forse con un fallo recupera la sfera attenta alla solo personale che si conclude con un nulla di fatto. Dall'altra parte il solito Baldinini in girata prova a creare grattacappi alla porta difesa da Vandi spedendo alto. La replica porta Semplini a bloccare un tentativo dalla distanza. Dall'angolo invece è la volta di Castiglioni che di testa mette sopra la traversa. La porta di Nuova Feltia continua ad essere presa d'assalto. Qui Semplini è costretto a rifugiarsi in angolo. Successivamente il colpo di test di Belloni termina abbondantemente a lato. Ma lo stesso Belloni si procura un rigore per un fallo di mano di Arapi in piena aria. Dagli 11 metri Vuccai con i cucchiaio non sbaglia. Semplini indovina l'angolo ma non riesce da evitare il tris. Lo scatenato Belloni cuda ancora una volta timore con questo tiro cross dove a Delprete non riesce l'appuntamento per la deviazione vincente. Nel finale Baldinini cerca i gol della bandiera. Vandi si supera prima su di lui e poi sulla conseguente chance creata da Crociani con tanto di risposta finale. Ultimi assalti dei padroni di casa che pervengono da calcio piazzato. Il primo termina tra i guantoni di Semplini. Secondo battuto da Genghini si conclude sopra la traversa dell'estremo ospite. 3-0 in finale. La corsa del San Termete verso il primato in gradatoria prosegue a ritmi elevati. La squadra vista l'opera risulta convincente ed applausi. Prova nerissima invece per il nuovo affetto. Da rivedere la formazione di Fabri domenica prossima. In casa con il Bellaria la possibilità del riscatto.